Pranzetto fatto, riposino anche, sono le 3, si riparte, ora necessita assolutamente una fermata per la benza perché siamo asciuttissimi Io avrò 10 km d'autonomia credo, neanche 20 forse, passiamo da Lecco e si torna a casa a Vigevano Un traffico assurdo veramente, è stata proprio una scampagnata diciamo micidiale It's the cold before the storm, the dreads you were before, you best start breaking Non miamata russa ho fame ho fame ho fame metto qui da mangiare non riesco a recuperarli alla fine non ce la faccio ad andare così tanto con sulla zavorra non peraltro però potrei ma la faccio spaventare inutilmente sono rimasto bloccato dietro un vecchietto passavano troppe moto mi do un limone con quello che viene dall'altra parte perché mi avevo rischiato un frontale che stavo per sorpassare poi mi sono arrivati 7 o 8 a Manetta a Tuono per cui li ho persi questa è pericolosissima per cui li ho persi traficata la situa porco giuda perché quando mi ha tornato di sorpassare andabbiate grasso traffico micidiale mi ha beccato sulla tangenziale al ritorno già due incidenti, belli secchi, tutti fra auto tra dieci minuti siamo belli che arrivati siamo stanchi, c'è un bel abbiocchino tattico che mi è partito stanchissimo ho tutti sti palloncini, altro traffico, non ne posso più ma basta, state a casa siamo finalmente arrivati a Vigevano, casa, dolce casa finalmente ci si riposa un po' sono stanco, aspetta un attimo cosa? andiamo a bere una roba o andiamo a casa? ma sì andiamo in piazza dai va bene? sai dov'è? è piazza ducale potremmo andare lì in piazza ducale sì lei deve incontrarci con una sua amica che è lì è in piazza? eh? non sai dov'è? andiamo lì verso... va bene andiamo in piazza andiamo in piazza è una teca? eh? qual è? quella in alto? ok va bene andiamo lì andiamo lì ok dopo questa piccola digressione andiamo a bere qualcosa giusto per coronare bene la fine del giro è stato molto carino buona compagnia ragazzi io direi che con questo bellissimo traffico del Vigevanese possiamo salutarci e vi direi che ci vediamo al prossimo video se il video vi è piaciuto lasciateci un bel mi piace iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi perché vi controllo so se non lo fate e se non lo fate vi imperno sotto casa per cui attivatela bella a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao ciao iscrivetevi al canale 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 iscrivetevi al canale In my heart's been treason I don't want to take so hard time to run I can't hear the sound Can't stop my stomach I'm on the bus in the back of the woods Can't hear the tears of the woods I can't see the pain I can't see the pain Can't hear the sound Can't hear the sound Can't hear the tears of the woods Grazie a tutti.